oh giovani amici di facebook sono di ritorno da modena play dove ho fatto un paio di incauti acquisti chiaramente ovviamente e uno è quello che vedete ed è diciamo quello di cui parlerò in questo video vi mostro anche l'altro al volo la mitica spada di fin d'oro che finirà appesa nella nostra parete della redazione al più presto però di questo c'è poco da dire figa e basta invece di quello che vedete qua c'è abbastanza da dire perché è un nuovo relativamente nuova serie della mcfarland toys si chiamano construction sets sono partiti con tra i tanti temi che hanno a disposizione con the walking dead l'anno scorso hanno rilasciato tutta una serie di set abbastanza interessanti ma non super entusiasmanti devo dire la verità invece quest'anno sono usciti dei set nuovi tra cui anche appunto il camperone o rv di dayle che è una delle cose più belle della serie secondo me perché è proprio come come io affronterei l'apocalisse zombie cioè girando con il mio bel camperone magari un po più corazzato del windbago di dayle ma comunque questo è mi è piaciuta la cosa che salivano sul tetto con con il cannocchiale no eccetera 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 pronte a scappare perché si chiamano construction set si chiamano construction set perché in realtà sono da costruire però davvero come i lego sono addirittura compatibili con i lego ovviamente paraculissima sta roba questo ha 468 pezzi ci sono state un po' di boh polemiche le solite cazzate online lo scorso anno perché molti dicono anche giustamente ma perché farli compatibili con con il lego se poi in realtà hanno uno stile così particolare che con il lego non si sposeranno mai ba io dio in generale direi mai dire mai con come vedete il set finale sarà appunto molto realistico e colorato in stile mcfarland per cui molto bene mi piace moltissimo e però ogni singolo pezzo è appunto in stile lego o comunque in stile costruzioni vado ad aprirlo così vediamo che cosa c'è dentro fa proprio il classico rumore dei set lego in realtà eccolo qua dentro c'è quindi un libretto di istruzioni veramente in stile totalmente lego che figata e tra l'altro vedo già che dentro la fa non è arredato speravo lo fosse lo è in parte mi sembra ma mi sembra che si applica altro spazio vuoto e poi se la cavano fondamentalmente sulle parti esterne con questi pezzi molto più dettagliati che vedremo quando il modello sarà finito però come vedete tutte le pareti per esempio sono fatti in pezzi che assomigliano tantissimo ai lego poi dopo chiaramente sono tutti particolari e le miniature stesse si costruiscono anche se non sono certo in scala lego ma in questa scala diciamo proprietaria ci sono tanti altri set chiaramente gli altri non mi fanno impazzire perché sono parti di edifici per cui in realtà funzionano secondo me poco da soli invece questo come anche il woodbury assault vehicle sono facilmente diciamo esponibili sulla scrivania o robe simili allora secondo me non ci vuole molto montarla sta roba me la monto al volo e vi faccio vedere com'è il modello finito allora torniamo dopo averlo montato eccomi qua ci ho messo un'oretta e mezzo ci avrei potuto mettere molto meno ma ci sono un paio di parti veramente particolarmente stronzi in questo set gli incastri non sono mai eccezionali si ha un po' quella sensazione di lego cinesi non so se avete mai preso qualche set compatibile ma la sensazione è quella lì e la cosa figa però è che il risultato finale è davvero molto bello come potete ammirare è una specie di incrocio tra un lego e un gumpla fondamentalmente la struttura base si fa con i lego e poi ci sono un sacco di pezzi speciali che vanno ad incastro esattamente come i gumpla e aggiungono un sacco di dettagli e altre finezze tutti i pezzi poi sono verniciati e invecchiati in diverse maniere come potete vedere qui si vede molto bene sulle pareti tutti questi mattoncini 1x2 che sono serviti appunto a crearle ma gli stessi dettagli e le scritte questa W di Winnebago era già stampata sui mattoncini per cui anche qui c'è un altro mix sembra un po' di fare un puzzle nel senso che bisogna trovare non semplicemente un mattoncino 1x2 tan rigato ma quel particolare mattoncino che ha quel pezzo di W che si va a incastrare bene con il resto è molto particolare come costruzione devo dire mi sono anche abbastanza divertito l'unica cosa che stanno un po' è la qualità generale della plastica e degli incastri spesso bisogna spingere molto mi sono scordato di rimettere ecco un esempio pratico mi sono scordato di rimettere i due specchietti sono ad incastro e gli gioverebbe senz'altro un po' di colla perché si staccano molto facilmente come anche altre parti un po' più piccole magari visto che diciamo la prima regola dei lego è già stata infranta cioè non dipingerli direi che possiamo infrangere tranquillamente anche la seconda cioè non incollarli in questo caso il modello ne gioverebbe assai perché ci sono alcune parti davvero che si staccano molto facilmente come vedete comunque il livello di dettaglio è molto alto vi ripeto è tutto già bello che verniciato e invecchiato a modo il modello finale a me piace devo dire molto purtroppo non è redato internamente se non nella parte frontale ci sono i sedili c'è un mezzo volante ma comunque non si vede perché non si può accedere all'interno se non smontando il tetto ma serve veramente a nulla perché come vi dicevo la parte interna è praticamente vuota e vengono date e tre chiamiamole minifigure comunque tre figure anche loro sono da montare due gambe due braccia un torso la parte inferiore del torso e la testa gli incastri anche qui sono quelli che sono sono eccezionali devo dire si intravede lì dopo vi faccio vedere un po di particolari già vedo per esempio che la mia dolla mia zombie donna alla gamba destra incastrata male c'è anche dei chiaramente che guarda con il suo binocolo inconsapevole dello zombie che gli sta arrivando alle spalle in questa mia interpretazione chiaramente si può si possono insomma le minifigure si possono mettere in maniere diverse vi viene dato anche la parte inferiore di dale con le gambe seduto in modo tale che si può mettere alla guida del furgone non vedo il perché oppure si può credo sedere su questa sedia blu o su quella rossa che è sul tetto c'è anche come vedete un secondo zombie qui anche lui che gira sono piccoli particolari tipo la porta che ha anche la zanzariera il diciamo questo telone può essere montato sia aperto come vedete ora ma viene dato anche il pezzo per montarlo chiuso cioè praticamente si sostituisce si monta quest'altro pezzo in cui è chiuso rimangono abbastanza pezzi qua e la ci sono anche i supporti per le minifigure ci sono qualche mattoncino in più non tantissimi devo dire 5 6 davvero per cui state veramente molto attenti a non perdere mattoncini soprattutto quelli speciali come questi ripeto della w che si vanno tutti quanti ad incastrare uno con l'altro questi dietro che hanno delle delle scritte ce ne sono veramente svariati di mattoncini speciali che se li perdete sono cazzi perché poi vi perdete appunto tutto il dettaglio molto bello di questo modello non ci sono adesivi assolutamente è tutto quanto ad incastro non serve colla in teoria io credo che in qualche punto la metterò perché sono incastri veramente molto deboli gli incastri ripeto in molti punti sono sono un po duri e potrebbero la qualità poteva essere superiore però alla fine insomma se ne esce tranquillamente il modello finale ripeto secondo me esteticamente è molto bello il costo tra l'altro se confrontato a modelli lego molto simili per intenderci non so il frugoncino volkswagen chiaramente ha molti più pezzi ma come dimensioni siamo lì è molto basso perché attorno i 60 euro si trova su amazon a questa cifra il prezzo di stile credo che sia appunto quello quindi probabilmente magari si riuscirà in futuro a trovare anche a prezzi più in più bassi in generale in generale questi set mcfarland non costano tantissimo non costano neanche poco non è che costano 20 euro sono una cinesata totale però devo dire che sono verniciati molto bene o comunque molto bene per quello che sono cioè set comunque venduti così in serie e risultato finale è molto carino da mettere sulla scrivania o o dove vi va alla dimensione giusta per arredare senza portare via troppissimo spazio secondo me tra i diversi set mcfarland usciti mcfarland construction kits usciti di the walking dead questo è assolutamente veramente il più bello gli altri non mi fanno impazzire come vi dicevo prima sono parti di edifici ma niente di che invece questo mi ricorda una parte della serie che mi è piaciuto molto e questo furgone è veramente super figo e se vi piacciono i miei incauto unboxing e costruzioni giocattoli e altre cagate che vi mostro ricordatevi sempre di fare like fate share e ci vediamo al prossimo incauto unboxing ciao ragazzi